Mister Italiano è stato di parola, raggiungerà Porto Venere a piedi partendo da Spezia se ci salveremo. Ed ecco allora che questa mattina alle 9 puntuale il tecnico delle Aquile ha onorato la scommessa accompagnato dal preparatore atletico Ivano Tito, Alessandro Bucchioni, presidente del CAI, sezione della Spezia, Maurizio Cattani, guida del CAI, Lorenzo Ferretti, responsabile marketing e commerciale dello Spezia Calcio, Gianluca Parenti, responsabile comunicazione e Manuel Pasquini, social media manager. Punto di partenza allo stadio Alberto Picco, poi Biasse, i sentieri verso Campiglia, una breve sosta al rifugio del Muzzerone prima della discesa verso la piazza di Porto Venere. 15 chilometri percorsi e un'intera mattinata passata trascorci mozzafiato e paesaggi pieni di fascino che fanno da cornice alla nostra splendida città. Giunti a destinazione, Mister Italiano, accolto dagli applausi dei passanti increduli, ha raccontato le tante emozioni con un pizzico di ironia. Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Mi aspettavo un percorso più agevole, ma nessuno di noi, così come in campo, ha mai mollato. Dispiace non avere vissuto questo momento bello con tutti i tifosi, ma per le questioni legate all'ordine pubblico e al rispetto delle norme anti-Covid non si poteva. Quello che abbiamo fatto, ha concluso il Mister, è stato fantastico, straordinario e indimenticabile. Forza Spezia!